BBC sono ebrei le giornaliste più pagate e aveva scritto un articolo, questo giornalista aveva scritto un articolo sul Sunday Times dicendo che le giornaliste più pagate dalla BBC sono ebrei, poi è stato accusato di antisemitismo e l'ha ritirato l'articolo, vedete? Beh, questo è il Corriere della Sera, vedete che notizia ghiotta? Queste sono le Edelweiss, sono le Edelweiss cari amici, io le vado a scovare le Edelweiss, le stelle alpine, che bello, beh, ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema cari amici? Allora in tutto il mondo gli ebrei sono 16-17 milioni, in tutto il mondo gli ebrei sono 16-17 milioni, la metà circa sono nello Stato di Israele, l'altra metà è sparpagliata per il mondo, 16-17 milioni su 7 miliardi di abitanti. Beh, ce l'hanno in mano loro le leve del potere. E perché? Ma io ve l'ho già spiegato perché. Perché sono gli ebrei che hanno creato il patriarcato, ce l'hanno loro, i copyright del patriarcato, sono loro che tirano i diritti d'autore e non ci si deve mica meravigliare se alla BBC, la BBC, potentissimo organo di informazione BBC, le giornalisti più pagate sono ebrei. Ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Sono gli ebrei che hanno creato il patriarcato, loro hanno il copyright del patriarcato, per cui sono gli ebrei che tirano i diritti d'autore. Ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema, cari amici? Dov'è il problema? All'Etherwise, 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 cari amici, dove l'è? Ecco qua, cari amici, ecco qua. Beh, ok, cari amici, a tutti e tanti cari saluti da Serafino Massoni.